Da quando qui nel palazzo hanno scoperto il prestito online Compass.it è un continuo, clicca e compra, clicca e compra, clicca e compra. Perché? Perché praticamente c'è chi si cambia il divano, c'è chi si cambia la cucina, c'è chi si cambia la moglie, quello non c'entra niente. Ma si cambiano tutto perché Compass.it è sempre aperto, quindi da tutte le ore, clicca e compra, clicca e compra. Beh, contenti loro, ma contento pure io, contenti pure voi. Grazie.